Ciao e bentornati su Ritmi Batteria, anche oggi un nuovo tutorial per gli amanti del rock Highway 12 degli SDC La cosa che differenzia gli SDC è proprio l'intenzione che i batteristi hanno sempre dato nel suonare queste canzoni Non pensiate che sia poi così semplice emulare appunto questo portamento intanto che si suona Il consiglio che vi do è quello sempre di ascoltare tanto i live Live in Donnington che a me piace molto ragazzi sono pazzeschi, sono mostruosi Partiamo dal nostro groove di base appunto che come vi dicevo è in quattro quarti Logicamente cassa sull'uno e sul tre, rullante sul due e sul quattro Il charleston tutto in ottavi Io ho impostato il metronomo a 100 bpm per lavorare un po' più lentamente Se volete già riuscite a lavorare alla velocità del brano originale mettetevi direttamente sotto il brano e suonate Allora come vedete dalla partitura partiamo intro dove sentiamo la chitarra Batteria che entra, allora appunto io ho scritto due misure come le ho suonate adesso Successivamente fino ad arrivare al fill che porta il ritornello Ho scritto il ritmo che ha come variazione un ottavo di gran cassa sul levare del quattro Primo fill che porta al nostro ritornello Vediamo sull'uno della prima misura cassa, crash e rullante insieme Successivamente per tutto il resto della misura e fino al tre della misura successiva Abbiamo un timpano e rullante tutto in ottavi Increscendo fino ad arrivare sul quattro della misura successiva con un bel flam sul rullante Vediamo la prima parte del ritornello che ripete per tre volte Nostro groove di base sulla prima misura, stessa cosa sulla seconda Ma sul tre e sul quattro assieme a cassa e rullante inseriamo il crash Dopo questi tre giri vediamo una misura che riprende lo stesso groove Attenzione sul quattro che avremo un flam sul quattro e sul levare cassa e crash Due misure che ci riportano alla strofa Il charleston suonato col piede Misura prima della strofa che vede sul tre sul battere il charleston col piede Sul levare un flam sul rullante Primo tom sul quattro e sul levare del quattro cassa e crash Attenzione che sul levare del quattro abbiamo una legatura Che quindi ci riporta a suonare sul due, quindi sul rullante Dopodiché il nostro groove che procede ancora fino al lancio per il tornello Anche qui due giri di strofa Il primo che vede appunto come finale il nostro groove Sul secondo solito lancio per il ritornello Da qui fino a tutto il ritornello vediamo praticamente che si ripetono le stesse identiche misure che abbiamo suonato in precedenza Unica variazione da quando suoniamo appunto la misura col charleston col piede C'è una variazione il nostro special Abbiamo sull'uno rullante crash Sul levare dell'uno cassa Sul due cassa Sul levare del due rullante crash Sul tre due ottavi di cassa E sul quattro rullante crash Una misura di pausa Riprendiamo sempre con la divisione in ottavi Rullante crash due colpi di cassa Rullante crash due colpi di cassa Rullante e crash due colpi di cassa Sul tre e sul quattro della seconda misura Rullante e crash in quarti Ora vi faccio sentire tutta la parte Partendo dalla misura successiva alle tre ripetizioni del ritornello Arriviamo al nostro ultimo ritornello Tre giri completi Che vedono appunto tre finali Il primo che riguarda appunto anche la solo di chitarra Vede il finale che suona lo stesso groove del ritornello Secondo finale Cassa sull'uno Rullante sul due Cassa sul tre Sul quattro abbiamo due ottavi di rullante Suonato con il flam Misura successiva Due quarti di pausa Poi sul tre cassa e crash Sul quattro rullante crash Terzo finale che è anche la fine della canzone Cassa e crash sull'uno Sul due e sul tre Un quarto di rullante con flam Sul quattro due ottavi di cassa e crash In cui continueranno i piatti glissati fino alla fine della canzone Un bel finale d'effetto Vi suonerò una sezione del ritornello Più il secondo finale E una sezione del ritornello più il terzo finale Vi ho fatto un riassunto un po' di quello che sono le parti principali Spero che anche questo video vi sia stato utile Vi sarà utile Vi sia piaciuto Se non lo avete ancora fatto Iscrivetevi al canale Attivate le notifiche E rimanete aggiornati sui prossimi video che pubblicherò Non mi resta che salutarvi E augurarvi un buon divertimento Buono studio Buon tutto E buon groove Alla prossima E ciao Alla prossima